Davide Grillone e Paolo Romano, migliori in campo nella partitissima contro il Real Lions, sfida al vertice. Cosa ti dire, Davide, sulla tua prestazione? Partiamo in ordine di ruolo. Mi sono messo a disposizione della squadra. All'inizio abbiamo giocato un po' stentando, però poi dopo ci siamo aperti, abbiamo fatto più gol e abbiamo messo al sicuro risultato. Paolo, invece, autore di un pocherissimo, una cinquina per te, cosa che non succedeva da molto tempo. Tu che eri un abituato al gol, hai avuto una grossa pausa, poi sei sbloccato bene con questa cinquina, cosa hai da dire? Vabbè, molti gol li ho fatti anche grazie agli errori degli amversari, vabbè, lo devo dire. Però vabbè, comunque c'è la prontezza, diciamo, il voto per il tuo senso del gol oggi è stato molto alto, perché soprattutto in area, oltre al bellissimo gol di Parigiano che citiamo, comunque c'è qualche dedica per questo grande riconoscimento nel big match? Vabbè, io in particolare voglio dedicare tutta la vita del gol, questa vittoria a tutta la squadra. Il capitano, il capitano, infatti, perciò non si può mai fare la doccia con lui. E invece Paolo... Io voglio dedicare a mio cugino Ciro, infortunato purtroppo, o io no, il nostro bomber io sono il suo sostituto in quanto... Vabbè, comunque è stato... Ciro non ha demeritato oggi. Un leone era in campo. Grandi, grandi ragazzi, allora un applauso, fatevelo in bocca al lupo, ciao ragazzi. Grazie, grazie.